ciao allora oggi vi parlo di un prodotto della essence che se vi ricordate tempo fa quando ho fatto il video di quando comprare il prodotto e ho detto ma che cos'è proviamolo ma non ho capito è una meraviglia ve lo faccio vedere è il Lush & Brown Gel Mascara che l'ho finito è un po' macchiazza ma ora capite perché lo scovolino è questo quello classico è un gel trasparente è un mascara trasparente perfetto per le ciglia e le sopracciglia io per le ciglia non lo uso perché non ho bisogno che le densifichi di più però per le sopracciglia è un gel fissante meraviglioso io che uso le polveri soprattutto perché le sopracciglia mie sono fatte con le polveri questo fissante è meraviglioso fantastico non le secca ma le lascia belle morbide vedete belle morbide ma fissate ed è il colore non ne si sposta non svanisce durante il giorno le sopracciglia restano belle nella posizione che le lascio e lo trovo meraviglioso ve l'ho già detto meraviglioso sì meraviglioso e ne ho provate diversi di gel per le sopracciglia ma questo è il più pratico perché ha questo applicatore tipo mascara quindi è molto molto pratico ed segue bene la zona non macchia e si asciuga subito e resta bello fisso mi piace tantissimo per chi come me fa le sopracciglia con i prodotti in polvere questo è un prodotto che provatelo perché costa pochino 3,19 euro se non sbaglio e vi devoluzione davvero l'effetto finale e cambia davvero notevolmente il disegno delle sopracciglia perché resta intatto tutto il giorno davvero wow cosa dire l'ho già ricomprato l'ho già rifinito e ne ho già comprato un altro perché continuo a usarlo unica cosa dato che ho usato il prodotto in polvere questo andando ad applicare un po' si macchia dovrei pulirlo ogni volta ma spreco tanto il prodotto e dato che alla fine lo uso solo io e solo con lo stesso tipo di prodotto per le sopracciglia è vero lo rimetto dentro si macchia leggermente perché prima era trasparente però lo uso fino fino alla fine e ve lo straconsiglio fatemi sapere se avete provato e come siete trovate io ve lo straconsiglio e se vi sono strautile mettetemi un like al video e iscrivetevi al canale così non perdete il prossimo accensione beauty ciao